oh sei svegliato alla buon'ora eh ah ma sei qua vabbè ricordo oggi è il grande giorno dai dai tu non vuoi mangiare niente? si sa appena svegliato ma spero mi prendo una coca cola eh bro guarda la coca cola di qua bobo bobo eh guarda me ne prendo un chiume che quella è quella secca ma questo passa la montagna qua ma toglitelo intanto eh beh guarda ci sono le spie del governo tu mi chiedo mi ha fatto sprecare un centesimo questa macchinetta mi ha fatto sprecare un centesimo un dollaro un dollaro ma io bevo un po' di succo alla melanzana lascerò perché sono figo succo la melanzana come come vomitare di prima mattina succo la melanzana vai andiamo se ve ciò cosa dai le pesalità no no eh sediamoci un ottimo per fare tutte le cose allora dovremmo fare la cosa la preparazione dove dobbiamo uccidere le auto e dobbiamo hackerare hackerare le auto cioè non hackerare le auto dobbiamo hackerare le barche di tutto ce lo spiegherò l'essere barche e aeree e auto vai insomma alzati alzati la testa è bezzata da pesare però non siamo più i criminali in una volta però se ce la dire non abbiamo mai perso non abbiamo perso la bravura ho sbaglio dai inizia e via andiamo andiamo copriti la faccia che sono sti cotri che rintracciano e stai a ti fai 5 anni di galera non guardo in me prendo la mia cruma blindata per arrivare come ci vestiamo e uguali ovviamente allora come così va bene ok va bene il direttante no conosciamo da lei la base operativa codice che non posso dire a nessuno perché se no se qualcuno sa il codice sono te puoi saperlo sei chiusa? si sei chiusa ma ok ho anche la mia cosa c'è un piano meno della guapa su l'unico acqua il quale dovremmo raggiungere il dell'exo il l'exo il l'exo c'è già la destinazione aspetta aspetta fatemi insieme un attimo io parto cos'è successo tanto noi non ci facciamo niente queste auto ci siamo fatti di latta siamo fatti di latta noi si perchè insomma i missili li ho fatti montare io ovviamente lo zio del criminale sta parlando una buona mia che va non so a quanto vediamo subito non si vede va ai 70 ora 80 presi vai dobbiamo arrivare ai 100 ma tu riesci ad arrivare ai 200? si allora guarda dove sono l'unio è che l'unio è un grande giorno riesci a finire tutte queste relazioni e ce ne andiamo anche noi a farci una bella vita allora poi come sempre si parte credo dopo domani eh penso che ti riuscano il colpo giusto però eh annulla che metterlo la settimana prossima ok cambia la proporzione metterlo la settimana prossima tu sai che l'estero può creare il telefono giusto? l'estero è trattato non si è la telefono giusto che il nome H2S server ah si è vero cioè ci ha aggiornato l'app H2S server per questo secondo per questo secondo vabbè non è che ci succederanno perché è un'auto per carri per carri ecco eh quindi eh quindi eh al fine sono ah neanche un graffietto nella mia auto eh beh manco la mia la mia allora ti spiego eh se è rotolata rirotolata fatto incidenti ma non si è deformata neanche buon per te eh eh beh ho la fumabilizzata è una macchina da corsa questa questa è la mia macchina da corsa guarda dove sono io sono già arrivato ti aspetto spoiler già messo è una macchina bella la mia ti aspetto ovviamente la tua ascolta però eh dobbiamo acchierare e poi distruggere ok quindi non distruggiamo subito potresti rimettermi il lo voglio mettere nel spore un chilometro e dieci ok 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 get in the cars and wait for my word 1 chilometro e 10 900 metri vai sono vicino ok che è rifiutato l'ho fatto con la mia che ho fatto io ok 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 guarda io vado alla b ah no io vado alla c tu vai alla b o alla d a click e a click d e dopo c'è l'app aperta c'è l'app aperta eh ok 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 vediamo ok 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 ecco ok ok l'abbiamo si fa tirare devi stare vicino a aprire l'app di non me la fanno trovare ok ma come se chi lo serve quella il simbolo dello se chi lo serve hai la b? si si per fortuna che abbiamo le radici nooo ciaone hai iniziato a muoversi la b pure che schiena ok cosa volevo fare vado alla b no vado alla a ormai sto andando davanti alla b mi hanno fatto un po' di male la mia auto è un po' rotta però vabbè ma devi stare lì ho tirato un colpo sorry speriamo speriamo che hanno messo loro tanti proiettili no perché sennò li tolgo dalla mia cosa sennò rispetto un medico ok ci sono di facilità dopo magari ti conosciamo la base operativa ti ti distendi sul mio letto e ti tolgo dei proiettili ok fuori te male ahahah ahahah abbiamo colpito? ahia si ah ahia no aspetta lì arrivo no fatto fatto esplodi fatto ah che male aspetta fammi fermare io vado a io vado a b e tu vai a anzi no io vado a cd e tu vai a ok mi sono messo qualche fascia giusto per io vado allora vai a b e vado a cd ok però dobbiamo come si 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 sei informato bene cioè devi cercare aspetta io dove vado vado dove sono vicino io cioè b a si a da b b a da b b a quelle due ma mi vado a cd cd un po' il controllo però è fatto per regolare quindi non ci possiamo lamentare giusto ma oddio scusa civile ma ti sei messo in mezzo sorry ma chi c'è fatto insomma ma mi sparano ci credo cerco di farli spaventare un attimo no 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 devi corrirli no no ok non sparano ok no no dopo sparano mi sasca c'è l've ha ufff 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 spavano mi sasca a no to tu nadina ufff 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 ahia mi sparano ma non mi prendono mi sparano ma non mi prendono ahia ahia si mi hanno sparato devi farli fuori fallita dobbiamo rifare ahia ah 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 speriamo che sia delle auto come tipo giallo come prima ah si è a colla di nuovo come prima ah tu come stai? dai no 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 contemporaneamente siamo saliti quasi e vado alla cdc e tu come prima lievita lievita che è più veloce tale quello di cominciare social not ma no toglietemi celi rio di sennò vi investo ecco che cosa è successo non si è fatto niente queste strade che ti dice dove andare per il molo o per qualcuno perché io vado al molo e mi butto giù come avevo fatto prima chi se ne frega tanto c'era giusto non i nostri schiavi mi sono girato un rezzo addosso non è successo che quest'auto sono blindata mai però vabbè adesso vi faccio fuori brutti toglietevi strada toglietevi toglietevi era successo una cosa però vabbè meno mal che non è successo niente ti distruggo dopo prima vado da quella che mi aveva sono ritornato ma non devi spararli perché prima chiararli e dopo li dobbiamo sparare ancora non l'hai capito eh scusa 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 adesso vado io ad ab e tu vai a cilini no 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 avevo sparato un colpo a casa e li ho presi e quindi meglio spari più eh ok prima finiamo prima ci tagano ok si giusto e siamo ancora siamo ancora alle barri veramente Concentrazione Che più facciamo meglio Più ci pagano Cazzo su Anni efficiente Che tipo tu un razzo Se ti vedo, un incollonito di merda Deficiente L'ho fatto esplodere Della giocca E poi che ha giocato il proprio Stato E' stato esplodato E' stato esplodato Quando l'ho passato sotto E' stato esplodato E' stato esplodato E' stato esplodato Pisco C'è un'auto che Ma ha fatto fare un incidente La seconda No Ma la levitazione ma si scemo tu non usare la levitazione finchè non arrivi davanti all'acqua eppure arrivi in una strada dove puoi andare nell'acqua non usare la levitazione no raga un attimo ma se tu guardi dal mio video giuro che ho attivato la levitazione ma mi è andata in acqua perchè la devi attivare sul volo la bo devi attivare la levitazione devi essere almeno 100 metri prima dell'acqua attivi la levitazione sul volo ma te sai che anche questi qua sono dei joggers non c'è la portiera e la chiudo dopo perchè sono figo e sparo razzi a caso io invece ho preso il mu oh oh un'auto sopra il ponte quando avevo sparato un vabbè e vabbè io mentre ho sparato una volta ho fatto cadere una persona dal ponte e l'ho fatta andare in acqua si vede il figo eh no ho fatto sparare una un'auto io ho sparato da sotto col razzo e ho distrutto un'auto e io ho sparato con il razzo una volta una persona è scappata mi è andata davanti all'auto e poi beh è caduta dal ponte giù l'ho fatto per capire che con l'auto maia aveva da poter fare e che era ma l'auto già perciò vabbè mi sta sparando oh aia 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 fatti i cazzi tuoi aia stai fermo stai fermo splodi stai fermo dopo che lo puoi attirare cioè direi magari corromperlo con una barretta di cioccolato va bene però non corromperlo allora non sei del mestiere per dirgli di star fermo devi corromperlo ah le distrugge il bersaglio vuoi che non mi fa chiarare sì lo so un attimo ok è fatto oh non è che mi fa chiarare oh appena vuoi discutere sì sì oh mi hanno un attimo un attimo a medicarmi ok fatti fuori ok ok a creare di questi sto creando che ti arrivo a dare una mano tranquillo sto facendo una mira del nero a me invece mi hanno fatto un po' di male no a me ma sono un colpo no a me no un colpo deve affondare io non me ne vado finchè non affonda dai vieni a raggiungere il losantos custom no no non dobbiamo andare allo santo custom si all'aeroporto ah sorry ah io ho sentito ho sentito dire a lester che ho sentito lo santo custom distruggiamo tutto tutto si è già arrivato comunque ti dico che io ho pochissimi soldi ho 49 mila dollari più quelli che ho in banca 9 mila sono tenutanti te quanti ce ne hai? 77 mila ci dividiamo 35% siamo diventati poveri tutte e due poveri tra virgolette perché adesso li diventeremo ricchi si va bene 35% a testa dopo 30 lì l'altro se entra perché credo che si può fare anche in due insieme ah allora mi sa che ci mettermi ahhh ma what the bar mh mh la rete di merda è indistruttibile what the fuck si ti aspetto ah mi sa che c'è un problema c'ho io credo di non poter entrare ma da qua devi entrare ma tu stai volando levitando vuoi dire no po' si sono mezzo entrato ma dall'altra parte mi chiedo perché i chai non sanno le robe buone aspetta non entrare che dopo l'ester ci dice qualcosa non entrare un attimo ok devo andare a vedere l'aereo arrivo che aereo vado un attimo sopra il tetto per vedere dove l'aereo mi è sicuro qua ma voglio specificarlo meglio ma è quello gigante Ale lo so eccolo là eccolo lì vieni anche tu devi venire un attimo lo sto specificando Chris un attimo ma abbiamo il tempo abbiamo il tempo no tu non devi fare niente all'aereo volevo vederlo 6 avevi sentito è quello di militare militare tra virgolette militare possiamo volare ok tanto stiamo sotto finchè non vola stiamo sotto finchè non vola guarda che devo acerare lo so ma non volare adesso ma perchè no perchè aspettiamo ma dopo prende il volo velocemente eccolo qua mi sono sotto è meglio stare sotto che sopra si ma dopo rimane le poteri dopo lo dobbiamo fare esplodere dove va sta girando cerco di andare di sopra ahia non l'avevo visto sto coso io ci sono in sopra attento che rimane l'elicottero non lo so ma 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 quanto fa strano andare in aereo ahhh 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 ahhhh aiuto elicotteri fratelli ci sono gli elicotteri e valli fuori io sto cerando giriamoci si no giriamoci io nel senso per far per farli esplodere ma dove l'altro dove sono gli altri guarda dove sono gli altri eh se io sono giù non ho la visuale per farli fuori anche io credo che lo devo finire di hackerare anche io ok ho finito lo so sto cadendo sono i miei poteri fanno frio mi sapevo tutto il normale perché mi stai fatto all'acqua di risultato beh adesso sono sotto certo lo so giù però ah no ecco l'acqua ah no ecco l'acqua ma va il nave no anche io però meno male ci daranno di sconto anche quest'auto a parte che ce l'abbiamo già la deluxo ce l'abbiamo già però quindi il cavolo è dell'acqua si rischiava così nel deluxo si sapevo anche iniziale a a atterrare più il piano perché manca su di km da me intrusi di consegna a sfondere della macchina e al primo piano di al tetto di un garage della macchina guarda qui in giù ti ho sparato in raggio l'hai visto no? no perché sono praticamente giù questo questo e questo lo so io ok si eccolo è stanzionata devi andare sotto è la nostra macchina su spazio riportabile lasciamole fare platino e beh tu hai contenuto luce degli elicotri 26.000 dollari come hai fatto a prendere 26.000 dollari? io non li ho presi perché sono tu le preparazioni ma io non li ho presi e beh sono tu le preparazioni sono da uno anno ma va fa culo e se ero da solo? se sei tu non si può sono da sole ma va se ero da solo me li dava male ma non si può fare da solo Ale devi farlo o in due o in quattro ma ragazzi spero che questo video primo episodio di questa serie vita da criminali vi sia piaciuto noi ci vedremo ad un prossimo episodio ciao raga bella ciao raga ciao raga